Dalla Sardegna alla Calabria e passando per la Sicilia, da Cosa Nostra all'Andrangheta, da Palermo a Tropea. Assolutamente sì, sono arrivato a Tropea ormai da 15 giorni con grande entusiasmo dopo un'esperienza estremamente significativa e pregnante nel territorio siciliano. Dopo l'iter formativo della scuola militare Teulie, l'accademia militare, la scuola ufficiale, il mio primo incarico è stato al nucleo operativo di radio mobile di Partinico in provincia di Palermo, quindi dopodiché il nucleo investigativo di Palermo per due anni. Adesso mi trovo a confrontarmi con una nuova realtà, per me completamente nuova, il territorio calabrese. È affascinante dal punto di vista naturalistico, è estremamente ancora più affascinante dal punto di vista lavorativo per l'attività istituzionale dell'arma. Ho avuto modo di confrontarmi con gli episodi che hanno scosso la giurisdizione della compagnia di Tropea e in genere il Vibonese in questi 15 giorni e auspico di poter mettere a disposizione l'esperienza che ho maturato in questi anni di servizio prestati in Sicilia. Il suo ruolo operativo avrà un approccio di natura più investigativa in un territorio complicato che negli ultimi sei mesi ha guadagnato spesso le prime pagine dei giornali, anche nazionali. Il mio ruolo sarà un ruolo istituzionale tendente a poter collaborare con le altre forze di polizia, con il comando provinciale e con l'autorità giudiziaria di Vibo Valencia. Il mio approccio per la mia stessa natura sarà un approccio anche investigativo determinato appunto dalle precedenti esperienze vissute in Sicilia. Lo farò con l'obiettivo di andare a supportare gli assetti dell'istituzione presenti nella giurisdizione di Tropea finalizzati fondamentalmente a un controllo del territorio quanto più qualificato da una rinnovata vicinanza al cittadino tropeano fondamentalmente per cercare anche di estirpare e riguadagnare quella fiducia che i gravi fatti di cronaca di cui abbiamo parlato, gli omicidi negli anni precedenti hanno portato a una sedimentazione di un senso di insicurezza che l'istituzione che rappresento ha l'obiettivo di smantellare, di estirpare.